allora ho tutta questa serie di valori che poi vorrei graficare però siccome sono tanti non c'è voglia di prendere il primo poi col conto al fino in fondo e selezionare c'è un metodo più semplice per selezionare tutti questi valori dunque seleziono da qui a qui perché non voglio selezionare quello diviso per zero perché quello la formula purtroppo mi porta la divisione zero e non voglio tanto 0 1 a questo punto faccio contro lo shift freccia in giù e seleziono tutto come mi porta poi a sotto ok e dunque a questo punto una volta selezionato andrò a graficare dunque contro shift tenendo premuto in contemporanea e in contemporanea anche schiaccio la freccia in giù in modo da selezionare mi seleziona come abbiamo visto tutti i valori fino all'ultimo tutti quelli che hanno valore che hanno un valore numerico ok ci vediamo alla prossima arrivederci